Domenica 21 novembre sarà inaugurato il campo sportivo tenente Michele Vaudano a Capaccio Capoluogo. La città e le associazioni sportive che operano a Capaccio Pestum avranno così un impianto moderno con il rettangolo di gioco in erbetta sintetica e tribuna coperta per mille posti. Abbiamo voluto annunciare questa notizia nel giorno del 58esimo compleanno dell'ASD Calpazio fondata l'8 novembre del 1963. È un augurio alla squadra della città che milita nel campionato di eccellenza affinché possa fare sempre meglio, ha detto il sindaco Franco Alfieri. Domenica mattina finalmente si consegna alla comunità il Vaudano che esattamente dopo 50 anni, perché io ho fissato la data dell'inaugurazione per il 21 di novembre, casualmente poi i cittadini di Capaccio Capoluogo mi hanno fatto notare che il 21 novembre 1971 quel campo era stato inaugurato. Però ovviamente è una struttura oggi moderna, campo in erba sintetica, tribuna per mille posti, ho finanziato anche con la mia amministrazione l'impianto di illuminazione, quindi un impianto moderno. Le squadre, gli sportivi, soprattutto anche le scuole calcio sono state sacrificate perché i lavori sono durati parecchio e sono stati tutti quanti dirottati sul campo a Capaccio Scalo, però ecco siamo in dirittura d'arrivo e poi domenica ci sarà anche un derby Calpazio-Agropo, quindi si festeggia davvero con lo sport nella massima allegria, nella massima felicità perché quando si consegna un impianto sportivo a una comunità allo sport è sempre una notizia bella.